Terzo appuntamento per la rassegna Pieve Incontra, organizzata dall'assessorato alla cultura di Pieve di Soligo. Dopo il pioniere dell'immunicologia, il dottor Maio, e il testimone del delito di mafia Giovanni Impastato, per il mese di luglio la giornalista Adriana Rasera ha portato al Teatro Careni un volto noto al pubblico del piccolo schermo, Antonio Caprarica. Inviato a Rai di Guerra e poi per quasi un decennio corrispondente da Londra, il giornalista e saggista ha presentato al pubblico la sua ultima fatica, l'ultima estate di Diana. Il racconto, basato su documenti e testimonianze dirette, delle ultime otto settimane di vita della principessa di Galles. Da icona di fascino e stile a madre pemurosa, dalla vita nel lusso più sfrenato all'impegno sociale, dal divorzio del principe Carlo alla passione per il medico parchistano Kazan Khan e la relazione con Dodi e Freyed, fino al tragico epilogo, vent'anni fa esatti, sotto il tunnel dell'alma di Parigi. Il ritratto che emerge dal romanzo di Caprarica sulla prima vera celebrità planetaria è quello di un personaggio letterario, una figura tragica che ha sempre dovuto scontrarsi con i dettami e le rigide regole imposte dalla monarchia. Dopo Caprarica, nel mese di agosto sarà ospite della rassegna, che rientra nel circuito Reteventi, un altro nome del giornalismo italiano, l'ex direttore dei Corriere della Sera, Ferruccio De Bordoli.